Arrampicata, pareti sospese, a filo del cielo. La Liguria ne è patria. Gestualità mediata dalla ragione. Movenze sinuose in osmosi con la roccia. I free climber si sollevano. Vie diverse, da Levante a Ponente. La Liguria è il regno dell'arrampicata sportiva. Parte dalla Spezia con il Muzzerone ed arriva fino a finale Ligure. Al Muzzerone e della Spezia l'arrampicata è più sul mare, su roscia calcarea, che comunque principalmente è più a liste. Mentre invece nel finalese l'arrampicata, che è anche là su calcare, su un tipo di calcare marino, si svolge più su un'arrampicata a buchi. Muzzerone, propaggine orientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Parete centrale, arrampicata tecnica ed elegante. Bric Scimarco, Antri Rossi, finalese, alle pendici finalborgo. Attualmente abbiamo 3.000 vie, finale 3.000 vie, chiodate, su 155 pareti, per circa 10 km2 di territorio. La particolarità di finale Ligure è proprio quella di poter essere arrampicabile tutto l'anno. Il sole, ma non solo. Precipizi, il gusto di arrampicare.